Ciao, ti do il benvenuto all'appuntamento con la videoanalisi sull'S&P 500 e andremo a vedere che cosa sostanzialmente è accaduto dopo la previsione di settimana scorsa e che cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni tenendo anche conto dei due giorni di grandissimi eventi che si stanno per verificare ossia l'uno abbiamo la Fed, il due abbiamo la BCE di giorno e la sera abbiamo un trittico mai visto nella storia con le trimestrali rilasciate da parte di Apple, di Amazon e di Google potenzialmente il due potremmo assistere credo a uno dei movimenti più incredibili se non il più incredibile nella storia dei mercati finanziari quindi è veramente un momento quello che stiamo per vivere e davvero molto importante il tutto ovviamente dopo la sigla mi raccomando non andare via eccoci qua come sempre in maniera iperveloce mi presento io sono Paolo Penisino sono il fondatore del sito il tradingpertutti.com e ti invito a visitare il sito iscriverti innanzitutto al canale Telegram quindi andando a cliccare qua sul link comunque in alto a destra troverai nelle schede e vari link da poter cliccare e quindi iscriviti al canale e ricevere gratuitamente tutti i giorni le due analisi che faccio con cadenza settimanale sui vari strumenti che lavoro e anche analisi riservate solo a chi è iscritto al canale gratuito chiaramente parlo sempre di analisi ciclica quindi con gli orari in cui probabilmente il mercato farà un'inversione ad esempio settimana scorsa venerdì ho rilasciato un bel grafico su il bitcoin dove era scritto che alle 15.30 c'erano occasioni di acquisto bitcoin e alle 15.30 spaccate bitcoin è partito chi ha seguito l'analisi indubbiamente è riuscito a fare una bella operazione sia su un exchange che eventualmente invece sul future o sul CFD ti invito anche a prendere visione di ciò che metto a disposizione come il corso di analisi ciclica e il corso di analisi volumetrica il corso di analisi ciclica sono ben 41 ore di formazione quello di analisi volumetrica 9 ore 9 ore perché è un corso totalmente pratico non mi perdo in autocelebrazioni in ore e ore e ore e ore di teoria ma semplicemente come leggere, come leggo io, determinate dati e condizioni volumetiche per poterne trarre delle informazioni utili in intraday il tutto sempre però dopo chiaramente l'analisi ciclica che rimane il fulco della mia operatività e rimane anche l'unico metodo veramente statistico che permette di sapere in anticipo che cosa farà il mercato oppure valutare se sei alla ricerca dei segnali la sala segnali in 3D sono i segnali sul DAX, NASDAQ e Dow Jones e basta cliccare qua andrai a visionare la tipologia di segnali il costo dell'avvolamento mensile è 49 euro quindi veramente molto contenuto l'opportunità copy trading la trovi comunque qui in performance segnali al momento non è consigliato collegarsi perché è una fase di drawdown quindi bisogna comunque attendere che si rientri per il semplice motivo che se si collega adesso vengono aperte tutte le operazioni contemporaneamente e quindi si sballa completamente il money management comunque il tutto lo puoi trovare qui anzi vado ad aprire direttamente qua su myfxbook velocemente operazioni chiuse 41,60% conto aperto di copy il 4 settembre 2021 e in realtà un drawdown che è intorno al 30% in questo momento quindi ogni profitto lo vado a utilizzare per togliere una parte di drawdown e se no questo mese saremmo abbondantemente a un più 4% come operazioni chiuse però in realtà non per ultimo venerdì ho chiuso metà della posizione più lontana del Nasdaq per mantenere il drawdown sempre contenuto e piano piano liquidare tutte le posizioni in attesa che il mercato eventualmente giri dalla mia parte invece con il segnale è tutta un'altra cosa perché il segnale sono un mondo completamente a parte e stiamo anche lavorando molto bene in questi giorni con un mercato che ha ripreso a swingare non è più un mercato monodirezionale adesso veniamo a noi anzi velocemente risultati di gennaio Nasdaq bene a 307 punti DAX ancora negativo con 40 punti ahimè è un Dow Jones 35 punti è un mese un po' scarso però rimane comunque un mese per gli iscritti e segnali che sta dando comunque un profitto interessante veniamo all'analisi siamo al minuto mi sono dilungato un po' esatto 4 minuti l'ora S&P diamo prima un'occhiata veloce al settimanale eccoci qua allora il settimanale lo vado a piazzare lo vediamo andiamo subito un attimo ad analizzare i cicli allora innanzitutto in questo grafico lo vedi lo vedi qui nel pallello sinistra questo è un indicatore Volta per poter lavorare e isolare i cicli sul mercato si sta già evolvendo con le altre versioni che arriveranno man mano e sarà disponibile la settimana prossima dovrebbe e le successive versioni non avranno un costo in più quindi arriverà l'aggiornamento arriverà la comunicazione basterà scaricare poi l'aggiornamento del software in questo caso sul settimanale sto analizzando circa da 54 mesi fino al 20 settimane i picchi più vicini i minimi più vicini sono sempre riferiti al ciclo più basso che vediamo a pannello infatti se tolgo 20 settimane vedi che si allontanano i picchi e mantengo 20 settimane perché comunque vuol dire già parecchio tempo da poter utilizzare per potersi muovere ed è sostanzialmente tra l'altro anche il ciclo che il mercato sta seguendo di più questo per intenderci il covid guardate che roba assurda il covid sul settimanale sostanzialmente è stato previsto in maniera direi quasi perfetta quasi perfetta perché anzi perfetta perché perché qui si sarebbe tracciata un'altra line ciclica e quindi qua comunque il mercato avrebbe generato un segnale ribassista e fra l'altro non si sarebbe mai entrati long su un picco quindi la previsione di ribasso non chiaramente di questa entità è stata abbondantemente prevista dalla componente ciclica normale amministrazione andiamo a evidenziare un atto mi cicli quindi vado a premere M così creo la notazione 416 giorni lo vediamo qua addirittura è un 104 settimane che per noi è esagerato quindi lo vado ad accorciare ma no non ci posso credere si è andato a mettere sotto sotto la scritta questo è un bug e si cancelliamo è proprio un bug se va a posizionarlo sotto la scritta non dovrebbe allora vado a prendere cicli più piccoli figuracce vabbè fa niente MM quindi questo rimane un ciclo da 230 giorni quindi un 54 mesi ma non interessano i più piccoli comunque vado a tracciare questo almeno abbiamo anche un'idea della durata vedete questo qua di sempre durerà stando alla proiezione circa 188 giorni quindi un po' meno ma andiamo a visualizzare il 20 settimane che è quello operativo quindi per me un 20 settimane è questo qui e un altro 20 settimane non si è ancora chiuso dovrebbe essere da queste parti allora veniamo noi abbiamo il prossimo picco provisto intorno al 2 di aprile quindi siamo totalmente in una fase di rialzo in questo momento su il grafico settimanale all'interno in un ciclo a 20 settimane andiamo a tracciare una trendline anche se non la considero ancora valida in questo momento perché non è passato ancora sufficientemente tempo per poter definire valida secondo me questa trendline che faccio bianca perché su weekly non è no verde chiaro perché è un 20 settimane ancora qui quindi siamo in una fase rialzista e ancora direi abbastanza convinta quindi sappiamo che abbiamo una bella spinta importante perché abbiamo una spinta del ciclo a 40 barre che riguarda un 40 settimane che è long un 20 settimane anche che è long e questo è una spinta sicuramente molto 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 importante che il mercato sta subendo da un punto di vista chiaramente dei cicli e abbiamo anche un 54 mesi che è rialzista l'unico ciclo che è in una fase rialzista al momento è il 36 mesi e mi pare anche il 18 non è anche il 18 a rialzo quindi possibilità di vedere un lungo periodo un ribasso dell'SMP al momento diciamo dal punto di vista dell'analisi ciclica è improbabile quindi adesso scendiamo sul giornaliero dove analizzo cicli più lavorabili nel senso che hanno una durata tale da poter essere lavorati con il nostro normale diciamo intraday oh caspiterina non è di qui non è di qua allora qui siamo analizziamo 40 settimane 20 giorni 80 giorni e 40 giorni quello che vediamo qua quindi quello più vicino sono 40 barre quindi parliamo del ciclo da 40 giorni vado a mettere il conteggio ok anche questo sarà totalmente automatico con la prossima la prossima versione vado solo a mettere il minimo ma in questo caso il minimo qua qui abbiamo già la possibilità di iniziare a tracciare delle trendline quindi andiamo a tracciare una trendline a 40 giorni che con il mio metodo è blu ok quindi lo vado a mettere blu ok perché sarà un importante segnale per il ribasso il fatto di avere un 20 settimane 40 settimane che spingono long non significa che poi in intraday scusatemi che nel ciclo inferiore si possa andare short ok andare short in questo caso significherà chiaramente non aspettarsi una spinta ribassista potente potente portentosa ma sicuramente il poterlo fare qui abbiamo un'incongruenza perché abbiamo intorno sul settimanale come vi dicevo è previsto per il 2 di aprile un massimo ciclico ok se invece andiamo qua torniamo sul nostro giornaliero noi vediamo che il 6 di aprile abbiamo un minimo ciclo però un minimo del ciclo più piccolo ed è normale che succeda così perché se no andiamo vi faccio vedere velocemente prendiamo ad esempio un 40 settimane ok ha una componente a sinusoide qui abbiamo il picco se però io ci metto dentro il ciclo di metà il picco qua diventa chiaramente in realtà un ribasso quindi questo ribasso qua sarà né più né meno che la componente in centro di quello che sarà il picco del ciclo 40 settimane ok quindi importante capire questo concetto torniamo all'altro noi qua abbiamo sostanzialmente allora se vado a mettere scusatemi il 20 settimane vedete abbiamo un picco previsto per il 30 di gennaio quindi domani e poi qui abbiamo invece il picco vado a togliere il 20 giorni lasciamo i 40 giorni dai 40 giorni quindi abbiamo tutta quest'area sull'S&P che va sostanzialmente andiamo a mettere il 20 che va sostanzialmente da un 30 di giugno di gennaio qui si è spostato alla grande ho esagerato come spostamento a un 16 di febbraio abbiamo tutta l'area che sostanzialmente ci dice che il mercato qua dovrebbe avere una flessione però abbiamo prima lo vediamo qua previsto per il 4 di febbraio una componente di bassista quindi cosa ci dovremmo aspettare allora poi andiamo a vedere i prezzi chiaramente da un punto di vista ciclico sappiamo che abbiamo in realtà un long che potrebbe durare fino a un 16 di febbraio ok se mettiamo solo un 40 giorni 40 giorni raggiungerà il piccolo andiamo anche ad aggiungere qua raggiungerà il piccolo il 5 febbraio cosa vuol dire? noi andiamo un po' vuol dire che 5 febbraio 30 gennaio 16 febbraio è tutta un'area parlo di tempo dove ci possiamo aspettare sostanzialmente un'inversione da parte dell'S&P adesso quello che dovremmo fare è cercare di capire risolvendo poi i cicli man mano che andiamo a svilupparsi se il mercato farà un movimento come quello che vediamo sull'indicatore quindi farà un movimento sostanzialmente così oppure farà un movimento così tutto ciò lo potremo vedere poi con la rottura delle trendline ovviamente adesso la trendline questa è lontana guardiamo se abbiamo modo di tracciare magari un 10 giorni 10 giorni che ci dà un minimo qui e l'altro minimo qua però lo vediamo siamo veramente praticamente piazzati uguali quindi andiamo a fare adesso un salto sulla piattaforma su TradingView così guardiamo sul future anche questo ovviamente è il future dell'S&P cerchiamo di individuare eventualmente dei livelli da poter perché no tradare senza dover aspettare che arrivi la trendline trendline che in questo caso andrà utilizzata ovviamente come livello di supporto per poter entrare quindi ci dobbiamo ricordare che adesso abbiamo potenzialmente già qua nella data tra un 29 e un 30 quindi tra oggi vabbè sabba e domenica tra domani e prossimi giorni comunque una possibilità di ribasso e andiamo a vedere se abbiamo qualcosa che ci può permettere di entrare la candera che vediamo sicuramente non ci dà indicazione di ribasso tutt'altro però andiamo a vedere passiamo di qua ovviamente i livelli sono già tracciati vado a tracciare solo la trendline del ciclo a 10 giorni come ho detto che era questa così la andiamo anche a posizionare qua almeno abbiamo tutto quanto perfetto vedete che in ogni colore io attribuisco una trendline intanto un fattore importante qui si è anduta a verificare la rottura di questa trendline del ciclo a 20 giorni che mi sa che qua non c'è esatto è a 20 settimane perdono non 20 giorni che è questa questa ah già viene qua il future porca di quale miseria è sbagliato no questo è 80 giorni perdono ok perdono la tua nascenza 80 giorni azzurra che in questo momento sta tenendo il prezzo perché si è venuta a verificare il nostro tracciare per non metterci troppo tempo e non perdere non perdere tempo sostanzialmente qua ma si è venuto a vediamo anche già a rompere la trendline del ciclo 20 settimane ricordate che siamo al rialzo sulle 20 settimane sul weekly questo è un fattore importante perché ci va a confermare che il minimo del ciclo 20 settimane è già partito e però sta tenendo la trendline 80 giorni quindi che cosa ci potremmo aspettare dal mercato sostanzialmente io potrei valutare una situazione del genere fermo restando che dovrà tenere chiaramente il livello 4077 e 4166 manterei la bontà della trendline 80 giorni se terrà le trendline cicliche a differenza delle trendline di analisi tecnica non sono discrezionali quindi non si vanno a tracciare livelli perché vogliamo a tutti i costi vedere un qualcosa sono totalmente obiettivi perché vanno tracciate utilizzando delle regole cicliche che quindi consentono di sapere che una trendline da 20 giorni è sempre la stessa e ci darà sempre lo stesso identico segnale in questo caso l'ideale sarebbe attendo alla rottura del 10 giorni ok e andare poi ad avere come primaria di target la trendline del ciclo a 20 settimane successivamente quella del ciclo a 40 giorni quindi questa sarà sicuramente una zona molto importante oppure visto che siamo comunque sul deal eventualmente perché no e attendere una conferma per un ingresso che potrebbe anche essere provato sotto almeno di questa candela quindi stiamo parlando di area grossomodo 4058 e tirare sostanzialmente al retest dell'altra online a 10 giorni però visto le giornate in cui ci troviamo visto quello che sta per accadere io sarei più properso a rimanere flat i volumi sono in calo quindi non stanno assolutamente accompagnando in questo caso il rialzo da parte del mercato forse giusto qua vediamo un piccolo assorbimento ma per il resto i volumi sono in calo quindi non stanno sostenendo questa salita aspettiamo fino al 2 e il 3 eventualmente poi decideremo senza eventualmente quello che in multi day eventualmente l'indice ci potrà dare come sempre se ti è piaciuto l'analisi è stato un po' lungo questo giro ti invito a registrarti al canale cliccare sulla campanella mettere un like e mi raccomando ci conto di vederti sul mio canale Telegram gratuito e anche perché no iscritto a uno dei miei servizi per poter lavorare insieme tra l'altro a breve arriveranno delle novità dal punto di vista della formazione dei segnali con l'utilizzo del nuovo indicatore che hai visto all time che saranno sicuramente di tuo gradimento con questo è tutto ti saluto tra poco farò l'analisi del gold e pubblicorò anche quella ciao e buona settimana